niente male non avrei mai pensato che fossi così sexy sei molto carino grazie è proprio vero che è l'abito che fa il monaco ancora un tocco e sei perfetta mi raccomando niente collante come diavolo credi che facciano con tutto l'involucro non mi ero mai posta il problema e poi è molto che non esercito vanno bene questi perfetto con i regi calzi e poi il seno bene in mostra deve saltar fuori è proprio necessario che tu stia qui ad assistere io me la cavo benissimo non sapevo che tu fossi un guardone comunque ora non sono in servizio se vuoi uscire un momento per favore completo l'uniforme vai vai va bene